Stai ascoltando la seconda stagione dell'Okiness Podcast, dove la mente incontra l'analisi transazionale. Questa stagione è gentilmente offerta da OTA Academy, partner d'eccellenza per manager e professionisti che vogliono portare ad un livello superiore i propri processi aziendali grazie ai potenti strumenti dell'analisi transazionale. Rivivi tutte le emozioni delle passate edizioni sulla nostra pagina Instagram e sul nostro podcast. Visita il nostro sito web www.festivalanalisitransazionale.it per non perdere nessun aggiornamento. Buon ascolto e che l'Okiness sia con te! Grazie a tutti! Ciao a tutti! e bentornati a questa seconda edizione del Festival dell'Analisi Transazionale, l'evento che promuove la cultura dell'Okiness nel mondo attraverso l'ispirazione, la psicologia e la crescita personale. Oggi in questo momento sono qui per presentare uno speech che sicuramente ci interesserà tantissimo. Toccherà le vite di molte persone perché l'argomento di questo speech è proprio l'ansia. Il titolo è Basta ansia, strategie per affrontarla e gestirla e ci aiuterà in questo conoscere l'ansia Ella Paolillo. Ciao Ella! Ciao Fortuna! Ciao Fortuna! Ciao Fortuna! Grazie! Grazie a te dell'invito! Fortuna! Fortuna, grazie per aver accettato e infatti Ella è una collega che ha accettato per la seconda volta l'invito a essere l'attrice del Festival, quindi insomma è un po' una veterana come noi. Non me lo sarei, non me lo sarei perso assolutamente. E sono molto contenta di questo, ti bella di dirci perché non ti conosci ancora chi sei, cosa fai e soprattutto perché hai accettato di nuovo di essere qui con noi. Ok, ok, allora sono psicologa, psicoterapeuta, docente e supervisore in una scuola di analisi transazionale qui nella provincia di Caserta, vivo nella provincia napoletana, faccio studio a Castellammare di Stabbia, ma insegno in provincia di Caserta. Mi occupo di una psicoterapia, di ricerca in psicoterapia e sono CTU del Tribunale della zona, quindi faccio anche psicologia giuridica. Perché ho scelto di venire per la seconda volta? Perché vi trovo veramente eccezionali e penso che l'idea di voler diffondere una cultura psicologica attraverso l'analisi transazionale sia proprio una cosa necessaria, necessaria. Necessaria perché noi analisti transazionali sappiamo quanto è importante l'adulto, ma l'adulto non funziona se non ha le informazioni e questo è il posto dove poterle prendere delle informazioni. Ben detto, ben detto. Mi piace molto quello che hai detto, sono completamente d'accordo. Dai, allora io ricordo, approfitto per ricordare alle persone che ci stanno seguendo che possono partecipare allo speech facendo delle domande attraverso i nostri canali e alla fine del suo discorso ella potrà rispondere a queste domande. Quindi mi raccomando, se ne avete non necessitate, scriveteci così le possiamo porre. Io ti lascio e a dopo. Ok, grazie, a dopo. Ciao a tutti. Allora, diciamo questo, ecco, lo speech si chiama, ecco, avete già intravisto come inizia delle cose eccetera eccetera, però partiamo dall'inizio, no? Si chiama Bastanzia. Bastanzia perché abbiamo scelto questo titolo provocatorio perché normalmente chi soffre d'ansia la considera quella mica scomoda, cioè quella della quale si vorrebbe sicuramente fare a meno. E quindi abbiamo voluto interpretare questa attenzione a volerla in qualche modo eliminare. Però prima di parlare delle strategie, di affrontarle e gestirle, è importante che ci allineiamo su che cosa significa l'ansia. A me è piaciuta molto questa immagine perché dà proprio l'idea di quando ci si trova in ansia come c'è una confusione che prende completamente il sopravvento. Poi se andiamo a recuperare una definizione, ad esempio, della Treccani, vediamo che l'ansia viene definita come questo stato di agitazione e forte apprezzione dovuto a timore e incertezza in attesa di qualcosa. È un'ansia, può essere un'ansia persistente per uno più situazioni sociali o anche per una performance e con una paura sostanzialmente sproporzionata. Ora una caratteristica fondamentale dell'ansia che sicuramente chi ce l'ha come amica conosce bene è che è associata ad uno stato muscolare di tensione e ha dei comportamenti che sono di evitamento e reazioni che hanno a che vedere proprio con il sistema di allarme, quindi con l'attacco e la fuga. Ma l'ansia è sempre un qualcosa di negativo? In realtà no, nel senso che esiste una forma di ansia che è considerata normale. E qual è questa ansia normale? Quella che ci consente di portare a termine i nostri obiettivi, anche i nostri incontri in maniera assolutamente efficiente o come vogliamo che possa essere portato a termine. Cioè praticamente l'ansia normale è quella che ci dà quel giusto guizzo per ottenere quello che vogliamo, sia a livello relazionale sia a livello di performance. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che l'ansia è sostanzialmente nasce a livello proprio biologico come un sistema che si attiva per consentire una sopravvivenza, un maggiore adattamento e anche, vi sembrerà strano, una protezione. Quindi fin quando siamo preoccupati per l'esame, questa cosa di fare l'esame, l'ansia di fare l'esame ci tiene attivi nella ripetizione e ci mantiene attivi nella memoria e quindi ci consente di poi di portare a termine questo esame in modo buono, possiamo dire che è un'ansia normale. Quando è che diventa patologica? Quando perde questo senso di protezione, perde questo senso di adattamento e di ottenere quello che poi vogliamo. Quindi ad esempio, riprendendo l'esempio dell'esame, diventa patologico quando non riusciamo a fare l'esame perché non riusciamo proprio ad annarci o peggio ancora arriviamo davanti al professore che dobbiamo fare l'esame, ci blocchiamo, abbiamo completamente il blackout. In quel caso noi abbiamo un'ansia patologica. Oggi parliamo tantissimo di ansia, possiamo dire che è il male del secolo di questo tempo, ma in particolare è un'espressione proprio della mentalità occidentale moderna. Perché? Perché questa mentalità occidentale moderna è assolutamente collegata a un senso di efficienza, di un'apparenza che deve essere sempre bella, in forma, perfetta e soprattutto capace, multitasking, capace di fare tante cose contemporaneamente. Vi dirò, ricerche scientifiche hanno ormai dimostrato che il multitasking non è così efficace come si immaginava che fosse. Anzi, le prestazioni, quando si fanno più cose contemporaneamente, si abbassano notevolmente. Però è come se incarnasse il mito dell'ondipotenza occidentale. Per cui abbiamo questo sintomo che è proprio espressione del nostro tempo. Giusto perché stiamo parlando di dati, do qualche numero, il 30% della popolazione adulta soffre di disturbi d'ansia. Una ricerca del Lancet, che è una delle riviste scientifiche più conosciute e più rinomate, del 2021, che si riferisce ai dati del 2020, dichiara che dopo il Covid c'è stato un aumento del più del 25% di casi di ansia, tra in particolare giovani e donne. Ma c'è un problema, c'è un problema su questo. Qual è? Ricerche precedenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno evidenziato già nel 2007, ma confermato anche successivamente, che su 100 persone, 41 pensano, nonostante hanno un disturbo d'ansia, quindi su 100 persone che hanno un disturbo d'ansia, 41 pensano di non aver bisogno di alcun trattamento. Perché? Perché se abbiamo detto che questo sintomo è espressione di questo tempo, è come se noi trovassimo un adattamento disfunzionale che poi limita fortemente i nostri comportamenti o le condizioni in maniera molto stringente, al punto che noi è come se ci fossimo abituati a questo e non riteniamo di aver bisogno di trattarla, questo aspetto disfunzionale. Per darvi un esempio, perché poi a me piace tanto anche proprio rappresentare un aspetto pratico, per darvi un esempio vorrei far partire il video, un video piccolo tratto dal telefilm Zero Calcare. Vediamo... A me quando qualcuno mi dice stai tranquillo mi si acciacca proprio la vena, mo si friggia proprio, mi sfricola la pelle, e Sara riesce a dire l'unica cosa che mi può fare stare ancora peggio. Guarda che siamo giusti coi tempi. No, siamo giusti, per me il concetto del giusto non esiste grande perché io non funziona come tutti gli altri. Percepisco nel suo sguardo che sto discorso mi fa sembrare uno squilibrato e quindi cerco di spiegare che mi sto basando su delle cose che ho studiato, non ho su un delirio paranoide. Metti che devo stare in aeroporto alle 10 e ci metto un'ora, una persona normale parte alle 9 e ci mette un'ora e alle 10 sta là. Uno più ansioso magari parte un po' prima tipo alle 8 e mezzo magari ci sta l'imprevisto e 9 volte su 10 arriva mezz'ora prima e aspetta perché appunto dei solito gli imprevisti non ci stanno, sennò non si chiamerebbero imprevisti, si chiamerebbero previsti senza il previsto im. Io invece devo partire sempre al massimo alle 6, quindi 4 ore prima e poi sta sicura che andrà tutto liscio, non troverò mai nessun top, arriverò in aeroporto alle 7-5 con 3 ore di anticipo e mi spaccherò potentemente il cazzo pensando a tutto quello che potevo fare in quelle tre ore e poi mi metterò a sommare tutti i minuti che nella vita ho sprecato ad aspettare perché stavo in anticipo e se li metto insieme probabilmente in quello stesso tempo potevo fare una laurea in medicina e fare la specializzazione in ostetricia e diventare un luminare che fa nasce i bambini potallici in tutta Europa e bate che a me non me ne frega un cazzo di ostetricia dei bambini potallici ma era comunque meglio che stare buttato a spettare in aeroporto in attesa di caperci in. Ecco, come avete visto, alla fine il protagonista aveva trovato un suo adattamento, trovato un suo adattamento che, come dire, si gli preclude di avere una carriera ma comunque va avanti così. Ho fatto questo esempio per dirvi sostanzialmente che siamo abituati a conviverci ma bisogna imparare anche a evidenziare quando diventa anche un po' troppo. Ma arriviamo all'analisi transazionale. Che cosa significa in analisi transazionale avere l'ansia? Prima di dire questo devo fare un passaggio che ha a che vedere con come noi guardiamo una persona. Un analista transazionale guarda una persona attraverso l'espressione di tre stati dell'io che hanno a che vedere con tre modi diversi di pensare, sentire e comportarsi. Ora, questi tre stati dell'io rappresentano sostanzialmente il mondo genitoriale che è quello che noi abbiamo ereditato e appreso dall'esterno. Quindi tutto quello che noi abbiamo appreso dai nostri genitori, dai nonni, dai zii, anche dai maestri, da chi è? Dalla nostra cultura. E solitamente quando si attiva uno stato dell'io genitore noi troviamo che le parole che vengono usate sono è necessario, si deve, è meglio, è giusto. Mentre quando parliamo in questo modo stiamo parlando dallo stato dell'io genitore. Quando parliamo dallo stato dell'io bambino invece abbiamo un altro registro. Perché? Perché lo stato dell'io bambino oltre a rappresentare proprio i nostri aspetti di temperamento, cioè la parte più profonda di noi, poi rappresenta proprio le nostre memorie fino a sei anni e la parte più spontanea, più in qualche modo anche più libera che ci appartiene. E quando parliamo dallo stato dell'io bambino diciamo cose tipo è bello, sì mi piace, lo voglio fare, diciamo cose in un modo sicuramente più partecipato potremmo dire così. Poi c'è lo stato dell'io adulto. Che fa lo stato dell'io adulto? Cerca di mediare le istanze del genitore e le istanze del bambino, ma l'obiettivo fondamentale dello stato dell'io adulto è quello di trovare delle soluzioni nel qui ed ora che possono essere le più efficaci per sé. E quindi sostanzialmente è una specie di elaboratore delle informazioni e agisce proprio come ho detto all'inizio attraverso delle informazioni. Quanto più l'adulto è informato tanto più noi possiamo scegliere, possiamo assolutamente essere chiari e limpidi rispetto alle cose che stiamo facendo. E cosa accade secondo voi quando c'è l'ansia? Abbiamo detto confusione eccetera eccetera, confusione, agitazione e quant'altro. E quindi lo stato dell'io adulto è come se fosse schiacciato in vaso o in alcuni casi viene proprio completamente escluso quando abbiamo completamente il terrore, pensiamo ad esempio ad un attacco di panico, per cui l'adulto non può scegliere, non può comportarsi in maniera funzionale per sé. È come se restasse bloccato da queste istanze che in qualche modo lo limitano fortemente. Queste istanze hanno a che vedere anche con delle convenzioni che noi in analisi transazionale chiamiamo copioni, chiamiamo poi convenzioni di vita, ingiunzioni e quant'altro. Ma per comprendere come gestire l'ansia e cosa fare dobbiamo fare un passo indietro perché dobbiamo comprendere quale può essere una causa. Io in questi termini usiamo una parola che sembra una parolaccia ma non lo è, che è l'eziopatogenetica che sostanzialmente ha a che vedere con che cosa causa l'ansia. Allora in letteratura abbiamo individuato e sono stati individuati tre sostanziali eventi eziopatogenetici o come diciamo cause che possono creare appunto l'ansia. La prima causa ha a che vedere con un problema relativo al deficit che significa che c'è stata una carenza nella struttura, cioè una carenza di apprendimento, di protezione in qualche modo anche di salvaguardia della propria sopravvivenza e quindi questo ha creato un incompleto sviluppo che come si rappresenta? Si rappresenta in un problema proprio anche fisico per cui noi possiamo avere che abbiamo il sistema autonomo legato alla minaccia quindi il sistema che sostanzialmente attiva comportamenti di attacco e di fuga che regola poi l'aspetto gastrico, quello cardiaco anche della mobilitazione che funziona come se fosse sempre in allerta quindi in una minaccia. L'immagine che ho portato è quello che riguarda in particolare la serotonina e la dopamina perché sono i neurotrasmettitori che in qualche modo abbassandosi nella presenza nell'organismo poi creano lo stato d'ansia. Un'altra causa importante che ha a che vedere più con un inversante psicologico ma vorrei che fosse chiaro che comunque ognuno di questi può essere anche presente contemporaneamente, un altro elemento di causa è ad esempio il conflitto. Il conflitto tra che cosa? Il conflitto che può essere conscio o inconscio o il conflitto semplicemente tra istanze diverse quindi tra pensieri, emozioni, bisogni, desideri completamente diversi per cui noi possiamo avere contemporaneamente il desiderio di fare una cosa e la paura profonda di fare quella stessa cosa. Poi dopo faremo degli esempi per chiarire che cosa ci può essere dietro. Oltre il conflitto un altro punto, un altro elemento di causa può avere a che vedere con il trauma. Che intendiamo come trauma? Trauma intendiamo quell'evento che in qualche modo crea un segno evidente tra il prima e il dopo. Ho messo l'immagine dell'orologio che si spacca perché quando parliamo di trauma parliamo di un qualcosa che si può evidenziare proprio chiaramente e che crea sostanzialmente una rottura dentro di sé. Questa rottura ha a che vedere con il fatto che in un momento in cui si è avuto o si ha un bisogno di un certo tipo invece nell'ambiente noi possiamo ottenere una risposta traumatizzante, cioè una risposta che crea una frattura. Andiamo a vedere rispetto ad ognuna quale possono essere le strategie per affrontarle queste cause. Le prime strategie di cui voglio parlare hanno a che vedere con il deficit. Perché hanno a che vedere con il deficit? Perché il deficit rappresenta quella ricaduta che abbiamo detto strutturale ma poi anche proprio fisica. Allora che cosa possiamo fare? Dato che abbiamo detto che la serotonina e in qualche modo la nonadrenalina sono assolutamente collegati all'aumento dello stato dell'ansia, è importante curare le proprie abitudini del sonno. Cioè fare in modo di avere un sonno protetto, di evitare gli schermi blu, di andare a dormire con un rituale del sonno. Perché? Perché quando dormiamo meno abbiamo anche meno energie. Questo meno energie crea poi questo stato di allerta che abbassa la quantità di serotonina e di dopamina e questi neurotrasmettitori aumentano un umore che può essere un umore depresso basso o lo stato di ansia. Appunto alimentano il circuito che ha a che vedere con il sistema di allarme. L'alimentazione infiammatoria è assolutamente sostanziale perché se abbiamo detto che la serotonina è uno dei neurotrasmettitori più diciamo coinvolti nell'attivazione fisica dell'ansia. Un'alimentazione infiammatoria, poi ho visto che ci sono altri speech su questo che sicuramente sarà importante andare a vedere. Un'alimentazione infiammatoria crea un circuito tossico per cui l'infiammazione intestinale collega e accresce anche un'infiammazione che viene poi rappresentata in pensieri e in ruminazioni che possono appunto alimentare il stato di agitazione. La respirazione, perché la respirazione è importante? Perché attraverso una respirazione profonda, lenta e consapevole aumentiamo il livello di CO2 nel nostro organismo e aumentare il livello di CO2 che cosa fa? Evita che abbiamo la pressione al petto, evita le palpitazioni, quindi quando uno dice no respira, fa una respirazione profonda, lenta e consapevole significa proprio in modo di arrivare al corpo il messaggio che non c'è un sistema di allerta da attivare ma un sistema di riposo che è quello antagonista del sistema di allerta dello stress. Naturalmente in quest'ottica sono importanti alcuni complessi vitaminici che hanno proprio il senso di aumentare la serotonina che poi è il precursore della melatonina che ci consente di addormentare, di dormire, di mantenere più stabile il sonno, degli integratori che ci consentono di mantenere un equilibrio anche intestinale perché l'intestino sappiatelo è il secondo cervello, se abbiamo problemi intestinali avremo sicuramente anche problemi nell'umore e anche proprio difficoltà di pensiero, quindi complessi vitaminici e anche in casi estremi sarà necessario utilizzare dei farmaci. Per quanto riguarda le strategie per gestire il conflitto, quando noi ci troviamo con istanze che sono in opposizione l'una con l'altra, la prima cosa da fare è allertare l'esame di realtà, tutto quello che individueremo ha a che vedere proprio con il sollecitare un adulto osservante che riesce in qualche modo a riprendere le redini della situazione. L'esame di realtà che serve a dirsi sostanzialmente non sono in pericolo di vita perché è quello l'allerta principale. Individuare le parti in conflitto, ad esempio prima dicevo voglio fare una cosa e allo stesso tempo ne ho terrore, immaginiamo di voler andare alla festa di una nostra amica però mentre ci stiamo organizzando per andare alla festa ci viene un attacco di panico, ci viene un'agitazione infinita e incominciamo in qualche modo a sentire qualcosa di incongruo. È importante fermarsi in quel momento e dirsi ma c'è una parte di me che non ci vuole andare a questa festa e se sì perché? Perché magari ci sta il tipo che mi piace, che ho paura di incontrare o perché magari ho paura che mi sentirò un pesce fuor d'acqua o perché sono arrabbiata con questa mia amica perché non so che cosa ha fatto. Quindi fermarsi e cercare di comprendere quali sono le parti in conflitto. questo consente poi di lasciare fluire le emozioni sottostanti perché? Perché l'ansia copre tutto, io lo chiamo la punta dell'iceberg di ogni cosa, l'ansia copre l'emozione che si trova sotto. È possibile che tornando all'idea della festa se una parte di me non vuole andare perché non lo so, sono arrabbiata, sono arrabbiata con qualcuno che verrà oppure mi sento in colpa perché avrei dovuto fare delle cose che non ho fatto. Qual è l'emozione che sta sotto l'ansia e che l'ansia copre come una coltra, come un coltre di nube? Naturalmente è difficile fare questo da soli, è importante che voi ve lo diate come obiettivo e nel caso in cui non ci riuscite anche lì chiedere un aiuto a uno specialista e sostanzialmente un modo per attivare il proprio adulto. Per quanto riguarda le strategie per gestire il trauma, anche qui il primo punto è l'esame di realtà, però qui è diverso dal precedente perché qui non è l'obiettivo a cui pensare per mantenere l'esame di realtà è l'ho superato, cioè quella cosa che mi si sta attivando come trigger io l'ho già superata e quindi come dire stare in contatto con il qui ed ora sollecitando l'adulto dicendo quello che io sto vivendo non ha a che vedere col qui ed ora è già passato. Perché muoversi? Muoversi come ho scritto libera consente di liberare le endorfine ma anche perché? Perché il movimento riduce il livello di cortisolo nel sangue, il cortisolo è quella parte, è quell'ormone che poi crea lo stress, è legato allo stress, quindi quando si ha il ritorno di un evento traumatico nella mente è proprio importante muoversi, muoversi così da attivare le endorfine e ridurre il cortisolo. Comunicare con gli altri e non isolarsi perché se mi sta venendo in mente un ricordo di quando sono stata in montagna e mi è successa una frana o non lo so stavo facendo una scalata e non è andata male e io vedo le montagne e sto guardando le montagne, è importante che io non mi ritiri nel pensiero di quello che è stato ma posso restare nel qui ed ora proprio parlandone con chi mi è accanto. Accettare, parlando con chi è accanto è anche il modo per accettare il proprio vissuto emotivo che può anche in questo caso avere a che vedere con rabbia perché non sono stato attento o vergogna perché ho fatto un errore grossolano pensando a uno scalatore, ho la colpa perché se non sono stato attento a qualcosa magari qualcuno con me si è fatto male. Naturalmente anche questo, vi ho dato degli input a cui pensare quando vi trovate in questo stato ma è anche importante dirsi che non si devono fare le cose da soli per forza. Può anche essere importante incontrare uno specialista e avere proprio in mente di recuperare insieme all'altro queste cose. Vi voglio salutare con una frase di una canzone di Bruno Risas che mi piace tanto che dice se c'è una cosa che mi fa spaventare del mondo occidentale questo imperativo di rimuovere il dolore perché l'ansia rappresenta un contatto con una fragilità e sarebbe proprio bello ricordarsi che abbiamo anche il permesso di starci in contatto senza per forza andare in una critica dove ci dice che qualcosa in noi non va e che stiamo andando male. Vi ringrazio per l'attenzione spero sia stata chiara in quello che ho detto e ciao fortuna sono tornata sono tornata sei stata molto chiara anzi ti volevo fare proprio i complimenti per questo speech in cui in maniera delicata insomma si è riuscita a parlare di temi importanti a mettere in collegamento mente corpo sensazioni percepite teoria che ho riconosciuto e che hai spiegato veramente con grande delicatezza complimenti complimenti e allora sì ci sono arrivate un paio di domande alcune domande ne ho selezionate due in particolare che si legano forse proprio a quest'ultima cosa che stavi dicendo allora la prima domanda nella prima domanda ci chiedono ti chiedono anzi che significa che l'ansia è protettiva se puoi specificare meglio che cosa intendi? Ok allora noi consideriamo l'ansia protettiva l'ansia come un qualcosa che attiva una protezione immaginate se noi stiamo mocivole facendo una scalata e non avessimo un'ansia che ci impone di mantenere un'attenzione rispetto a quello che stiamo facendo l'ansia ci protegge quando ci dà la possibilità di mantenerci vigili quando ci dà la possibilità di ottenere e nel miglior modo possibile quello che stiamo facendo in quel caso è protettiva quindi nella scalata ma anche quando ho detto nell'esame se non abbiamo un'ansia da prestazione per fare l'esame noi potremmo andare a fare l'esame come se stessimo non lo so facendo una passeggiata e magari in quella situazione proprio perdere dalla memoria e non avere quell'attenzione che l'ansia ci consente di avere per tenere saldi dei punti quindi l'ansia è protettiva quando ci consente di mantenere un'attenzione su quello che stiamo facendo che ha a che vedere proprio con la salvaguardia del nostro della nostra prestazione del nostro essere con l'altro in questo in questo in questo caso viene considerata protettiva ok ok grazie mille sei stata anche molto nei tempi ti faccio la seconda domanda che dice allora come facciamo a riprendere il controllo l'esame di realtà forse se ho un attacco di panico questa è difficilissima allora quando si ha un attacco di panico c'è un adulto c'è un bambino esclusore cioè c'è una parte di noi che esclude completamente il resto si riprende il controllo mantenendo l'attenzione sul qui ed ora sollecitando a mantenere un adulto presente perché durante l'attacco di panico noi siamo in contatto con il bisogno di rassicurazione perché pensiamo che stiamo per morire allora bisogna in quelle situazioni avere come dire il piano d'emergenza strutturarlo prima se dovessi avere un attacco di panico per fare questa cosa cosa posso fare per prendermi cura di me è un qualcosa che ha a che vedere con una strutturazione precedente perché nel momento in cui avviene e si può solo sperare di avere qualcuno accanto che ci possa sostenere ma pensare prima a che cosa può esserci utile sapendo che come se fossimo un bambino terrorizzato cosa diremmo noi a un bambino terrorizzato davanti a noi cosa potrebbe essergli utile naturalmente ognuno di noi ha la sua rassicurazione grazie mille grazie grazie davvero per queste risposte grazie complimenti ancora per il tuo spiccio grazie per essere stata con noi anche quest'anno allora io saluto ella e saluto tutte le persone che hanno partecipato a questo spiccio grazie per averci seguito restate collegati perché tra poco ci sarà un altro spiccio quindi insomma a breve ricominceremo se volete seguire il programma ed essere già aggiornati sui prossimi titoli andate sul nostro sito www.festivalanalisi transazionale.it noi restiamo connessi e ci vediamo dopo buon festival a tutti ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.